Buonasera, buonasera, T8 e mezzo, benvenuto, benvenuto Matteo Travagli, presidente delle Olimpiadi, segretario del partito delle Olimpiadi e buonasera, bentornato Marco Renzi, direttore del Fatto Democratico. Allora presidente, cominciamo subito perché dopo il no di Virginia Raggi, il capitolo Roma è chiuso o no? Credo proprio di sì, no, sì. Dipenderà formalmente dalla decisione del Consiglio Comunale, però immagino che se il sindaco di Roma ha scelto di dire no, evidentemente immagina di sì. La sorpresa, il no della Raggi, l'aveva detto in campagna elettorale, l'aerotorale. Io sto cercando, l'avete visto anche durante i momenti di polemica, di non fare mai il tifo per l'Italia, sono contro per l'Italia, quindi se Roma va bene mi dispiace, però non mi sorprende, però un po' mi amareggia, però mi amareggia una cosa essenzialmente, che una grande opportunità come quella delle Olimpiadi non si possa fare perché c'è il rischio che... Io quando sono arrivato a Palazzo Chigi all'Expo mi hanno detto tutto, fare l'Expo, non fare l'Expo. In otto giorni abbiamo messo i ladri, abbiamo cacciato il cantone, la procura di Milano, abbiamo lavorato con i ladri, l'Expo è stato un grande successone. Detto questo, rispetto, poi si va avanti. Chi invece è d'accordo con la sindaca Raggi è Marco Travaglio. Presidente Renzi, allora tra poco in Parlamento andrà in discussione la legge di stabilità, il governo deve decidere dove tagliare, dove risparmiare, dove spendere, dove tagliare, risparmiare, spendiare, quindi... Lei mi correga se vado. Dove... Intanto tutto questo è confermato? Tutto confermato. Tutto questo è confermato? Tutto confermato. Tutto confermato, e anche perché deve spendere un sacco di... Presidente del Consiglio Renzi, lei può ammettere che è stato un errore personalizzare questo referendum costituzionale? Sì, lo ammetto. Ammette? Sì, lo ammetto. È stato un errore? No. Si vota sì o sì o sì o sì o sì. Se il Senato ha meno funzioni, si riunirà anche di meno ornatori. Ma non è così, e le dirò perché. È così. No, non è così. Travaglio, devo chiudere, devo chiudere e raduisco, vedo gli avanti.